Nonnina, sono io, rossa! Vieni, entra pure! Se credete di conoscere la storia... Che mani grandi che hai e che orecchie grandi che hai! I vecchi non sono le orecchie grandi, cara! Se credete di conoscere la leggenda... Nonnina, che occhi grandi che hai! Dobbiamo starcene qui a parlare di quanto mi sto allargando! Ricredetevi! Nonnina! Cosa c'è? Disturbo della piatta domestica, effrazione, maneggio d'ascia senza portodarni e tentativo di sbafata! Nicky Zampe, che ci fai qui? Abbiamo quattro sospetti, il che vuol dire quattro storie. Qualcuno sputerà l'osso. L'osso? Una bambina innocente, che non è così innocente. Mi chiamano rossa per il cappuccetto rosso che porto. Quando invece non lo porti? Di solito lo porto. Un lupo cattivo, che non è così cattivo. Ti sei beccato una pestata da una bambina. Che imbarazzo! Una nonnina dolce, che non è così dolce. E uno spaccaligna, che non sa spaccare. Ha il cervello di un'oca. Attento capo, mia mamma è mezza oca. Ora... Un crimine scioccante diventerà il mistero più grande del mondo. Tu per chi lavori? Mi ha assunto il bandieto! E ora bambina con il cappuccetto rosso. La bambina col cappuccetto rosso. Non so, mai sentita. Tanto dolce, non come quella Pippi. Cappuccetto rosso. Un lupo che ferma i bambini in mezzo alla foresta. Fa paura. Non arrestiamo la gente perché fa paura. Ehi Bruce, sai quello che abbiamo al fresco? Quello che fa paura? Sì, rilascialo. Buongiorno. Corri! Cappuccetto rosso e gli insoliti sospetti. Ehi, umore di guai, dunque va dentro a fare la 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 la. Hai mai pensato al caffè decaffeinato? No, io non bevo caffè. You're unbelievable.